È stato firmato dal sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani e dal presidente Michelangelo Agrusti il protocollo d'intesa tra Comune di Pordenone e Fondazione Istituto Tecnico Superiore Alto Adriatico. Il protocollo prevede una convenzione per la gestione degli spazi dell'ex birreria, edificio dei primi del Novecento ubicato in via Fontane, di fronte alla sede della Questura. Il protocollo e il progetto presentato oggi ha diversi aspetti importanti. Il primo è quello della rigenerazione di un edificio abbandonato da decenni e completamente cadente, che però è un edificio iconico, importante per la città, cioè l'ex birreria. Il secondo aspetto è che rigenerare un edificio, quindi un contenitore senza un contenuto, non avrebbe avuto gran senso. Noi partiamo dalla storia della nostra città, una storia di imprenditori, di manifattura, di crescita economica, che però ha bisogno di figure professionali all'altezza di queste sfide. L'ITS è un'eccellenza di Pordenone. Istituto Tecnico Superiore, cioè la specializzazione post-diploma biennale, che registra quasi il 100% di persone che vengono assunte ancora prima di finire questo percorso formativo. Daremo loro una sede per consentire di operare ancora di più. Contestualmente libereremo il consorzio universitario dalle aule che attualmente vengono occupate l'ITS per aumentare anche lì l'offerta formativa con corsi diversi. L'obiettivo quindi è rigenerazione urbana, dare un futuro ai nostri giovani, creando quelle figure professionali che il mercato al lavoro richiede e che spesso non trova. L'ex birreria si inserisce in un contesto più ampio di rigenerazione urbana, oggetto di un intervento consistente grazie ai fondi PNRR e PINCO trovati dal comune di Pordenone, grazie alla partecipazione a una serie di bandi. Si tratta di un luogo destinato ai giovani, ma non soltanto a loro, che dovrebbe innescare, grazie alle nuove attività e ai nuovi insediamenti come l'ITS all'interno dell'ex birrificio, un processo di rigenerazione del tessuto sociale ed economico e non soltanto urbano di quest'area così importante della città, a due passi dal centro e perfettamente collegata a quelle che sono i principali luoghi di intermodalità, come la stazione e l'autostazione. Una giornata importante segna la nascita fisica dell'istituzione ITS, dentro una costruzione che recupera un pezzo di città e la destina all'education, cosa importantissima. L'ITS è una realtà ormai dal 2011, è una delle risposte anticicliche che abbiamo dato al suo tempo ad una crisi immanente ed imminente. È stato un successo, abbiamo oggi circa 150 iscritti al primo anno dei corsi sulla Information Technology, che è la vocazione più importante che abbiamo assegnato agli ITS in questo territorio. Importante che sia una sede pubblica e si rivolga a tutte le imprese. Riteniamo che questa sia la scelta fondamentale, elettiva, perché dà il senso di un'appartenenza collettiva ad un asset formativo come quello degli ITS. Il progetto di riqualificazione dell'edificio ex bireria è frutto di un bando che il Comune di Pordenone si è giudicato e così i 7 milioni e 350 mila euro necessari per l'opera arriveranno direttamente dal Ministero, senza dover mettere mano alle casse comunali.